Grazie, benvenuti a tutti quanti. Siamo già una quarantina di persone, quindi penso che tutti gli interessati siano già collegati e possiamo cominciare. Quello che volevo dirvi è che questa comunicazione, questa oretta verrà registrata e quindi sarà poi disponibile sul sito del patrimonio culturale. Prima di tutto introduco la responsabile del settore patrimonio culturale, Cristina Ambrosini, che ci presenta i suoi saluti e l'idea del bando. Grazie Barbara, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo collegate numerose e con me ci sono al completo il team di Silvia Ferrari che si occupa del sistema museale regionale. Quindi Barbara Fucci è collegata con noi appunto e anche il team di Chiara Casari che invece segue le parti più amministrative insieme a Marco Muzzoli e Ambra del Buono. Abbiamo pensato in questo intervallo di tempo in cui l'avviso per il sostegno e lo sviluppo delle reti museali è ancora aperto e quindi possono essere presentate delle domande di fare il punto su quelle che sono le domande più frequenti che in vario modo ci vengono rivolte direttamente o per mail o con telefonate e che riteniamo sia utile far diventare un momento di approfondimento, di chiarimento, di approfondimento, di confronto, dandoci un tempo molto limitato. Per cui io non mi dilungo assolutamente perché abbiamo cercato di preparare questo incontro in modo da suddividere gli argomenti cercando di essere quanto più possibili schematici ma speriamo anche chiari e risolutivi della maggior parte delle vostre quesiti. Io mi prendo solo due minuti per ricordare quanto noi nel settore patrimonio culturale ci teniamo a questo avviso. è il primo avviso che la Regione Emilia Romagna dedica allo sviluppo, al sostegno e alla creazione di reti museali o di reti museali e di altri istituti culturali. È un percorso che non spunta come un fungo dall'oggi al domani ma come sapete è oggetto di riflessione che vede le radici più profonde comunque nell'avvio del percorso che ha investito la comunità museale verso l'accreditamento al sistema museale nazionale. Quindi diciamo parte da abbondantemente 4-5 anni nell'impostazione di quelli che sono i valori fondamentali che devono essere sottesi alle ragioni dell'esistenza dei musei e della comunità museale. Siamo pervenuti a questo avviso allocando delle risorse appositamente su due annualità 2024 e 2025 nel bilancio dedicato al patrimonio culturale cercando comunque di condividere con voi, con i responsabili, gli operatori dei musei e anche di altri istituti culturali un percorso di conoscenza, di approfondimento, di confronto, di scoperta di cosa è una rete, cosa può essere una rete, cosa vogliamo che sia, a cosa può servire, perché dobbiamo rivolgerci e orientarci verso una logica di rete, in quali casi, con chi. Come sapete abbiamo anche promosso un corso, un percorso in cui siamo stati accompagnati da BAM strategie culturali, aperto a tutti, che ha visto una partecipazione consistente, un percorso anche impegnativo, che ci ha messo di fronte a dei casi di reti già esistenti sul territorio nazionale, in vari contesti territoriali, in parte a fine al nostro, in parte anche molto diversi. Siamo andati anche a scavare dentro argomenti che sappiamo essere rilevanti per la costituzione di una rete, quindi da un punto di vista giuridico, ma anche fiscale, e abbiamo maturato anche noi all'interno del settore delle conoscenze in più per proporre questo avviso, che è il primo, lo dico, è aperto, rimane aperto fino al 14 giugno e presenta delle caratteristiche peculiari, sperimentari, innovative, impegnative, ne siamo consapevoli, però come avremo modo anche di descrivervi nei passaggi successivi con Silvia, con Chiara e con chi poi parlerà dopo di me, noi vorremmo proprio che fosse chiaro che questo avviso per noi è uno strumento che nell'arco di due anni deve portare la regione Emilia-Romagna a riconoscere e individuare quei contesti che facendo tesoro e frutto di questa sperimentazione di rete potranno davvero continuare a essere individuati con una fisionomia di rete perché il raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi è maturato gradualmente con il sostegno appunto anche fondi pubblici, ma ha permesso di maturare anche una consapevolezza della missione dei musei e degli istituti che vorranno partecipare e che porterà a evidenziare quanto e che cosa sia più utile raggiungere in una struttura di rete con legami appunto cooperativi. Io mi fermo qui, ce l'abbiamo messa tutta per preparare questo incontro e perché sia il più possibile utile, tant'è vero che vi abbiamo chiesto anche di anticiparci dei quesiti che sono ricorrenti in modo da preparare le risposte e comunque evidentemente fino al 14 di giugno noi siamo a disposizione nella forma che preferite e per quanto possibile tutti insieme. Buon ascolto e buon confronto a tutti noi. Grazie. Grazie Cristina, cedo la parola a Silvia Ferrari. Prima vorrei ricordare che io seguirò la chat e quindi se qualcuno ha dei quesiti poi io li raccoglierò e li presenterò. Bene, grazie. Grazie Barbara, grazie Cristina. Veniamo ai contenuti del bando e cercare di approfondire quelle che sono le indicazioni utili per la presentazione della domanda e sciogliere un po' i quesiti, i dubbi che sono emersi e che qualcuno di voi ci ha anche anticipato nelle mail precedenti. Prima di tutto lasciatemi fare un ringraziamento intanto al gruppo di lavoro che ha lavorato all'elaborazione di questo bando e di tutto quello che c'è intorno oltre a Cristina Ambrosini che l'ha molto stimolato per il sistema museale regionale, Barbara Fucci che è la nostra collega referente per i sistemi e le reti e tutto lo staff del sistema museale regionale Matteo Fornaciari, Gabriele Assino e Beatrice Orsini e l'aiuto fondamentale, il contributo fondamentale di Chiara Casari la nostra collega responsabile per la pianificazione e il monitoraggio degli interventi per i sistemi bibliotecari, museali e archivistici e Marco Muzio, il funzionario della stessa area oltre ai colleghi della comunicazione che hanno permesso l'organizzazione di questo momento. Oltre a, come le colleghe hanno ricordato, al fatto che il webinar è registrato e poi la registrazione sarà resa disponibile sul sito, nella home page del sito patrimonio culturale regionale noi stiamo elaborando anche un file con le FAQ con le domande più frequenti e di interesse pubblico, quelle più ricorrenti che sarà uno strumento anche questo pubblicato sul nostro sito per la consultazione un po' più rapida ricordando comunque che noi siamo disponibili per ulteriori chiarimenti all'indirizzo del sistema museale regionale chiocciolaregione.emilia-romagna.it indicando nell'oggetto della mail quesito avviso reti museali noi siamo disponibili per le risposte che nella sede odierna, oggi magari per ragioni di tempo o di particolarità dei casi non troveranno una risposta diciamo immediata veniamo al bando e avrete la pazienza di aspettare la condivisione delle slide ecco qui vi chiedo si vede correttamente grazie perché io non vedo più nessun altro grazie per l'audio allora l'avviso è quello che vedete pubblicato sul nostro sito internet e l'avviso è stato elaborato naturalmente ai sensi della legge 18.2000 che come sapete è lo strumento principale legislativo in aiuto agli istituti culturali dell'Emilia-Romagna è una procedura di carattere sperimentale quindi sottolineo il carattere sperimentale come ha detto anticipatamente Cristina Ambrosini perché vogliamo stimolare nel territorio la progettazione in rete nasce quindi un bando per l'assegnazione di finanziamenti e risorse per incoraggiare i processi di cooperazione di lavoro congiunto tra musei, istituti culturali per lo scambio di pratiche, di buone pratiche per la condivisione di idee per la messa in rete di attività e programmi proprio nell'ottica comunitaria nasce come si diceva prima anche come risposta alle carenze di figure professionali di competenze di obiettivi strategici che sono emersi soprattutto nel contesto del sistema museale regionale che nasce proprio per il miglioramento e la qualificazione dei servizi culturali dei nostri musei l'avviso si rivolge alle reti museali che sono composte da soggetti pubblici dell'Emilia-Romagna e o da istituzioni culturali e luoghi della cultura senza fini di lucro a 26 delegali di Emilia-Romagna e costituiti in formale accordo di rete naturalmente i nostri preferenti saranno i capofila delle reti ma veniamo a capire intanto che cos'è una rete cioè adesso senza fare troppa teoria però noi siamo partiti dalla definizione che in sede di ICOM in preparazione al sistema museale regionale si va a definire un assetto strutturale generato dalla creazione di legami cooperativi tra più organizzazioni museali e o istituti culturali di differenti titolarità, dimensioni e tipologia collegati funzionalmente e in maniera stabile fra di loro al fine di coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti ai diversi pubblici del territorio ho sottolineato la parola stabile perché quello che interessa a noi come sistema museale regionale come settore patrimonio culturale è proprio l'idea che l'orizzonte di lavoro delle reti che possono partecipare a questo bando sia quello della stabilità cioè tendiamo a preferire che tra i musei si creino dei legami stabili con degli obiettivi di media o lungo termine perché le risorse sul territorio arrivino non in maniera puntiforme e disaggregata ma arrivino sui territori e su dei progetti condivisi, coerenti ed efficaci su dei territori più ampi la nostra aspirazione è che le reti esistenti sul territorio o quelle che stanno nascendo a seguito proprio del percorso che citava prima Cristina Ambrosini di formazione proprio su questo tema queste realtà tra due anni o qualcosa di più possano sempre più trasformarsi in veri e propri soggetti giuridici con degli aspetti con degli assetti di stabilità quali sono le tipologie di reti che possono partecipare? le reti tematiche o tipologiche cioè le reti che uniscono musei coerenti per tipologia che si possono unire per esempio per la valorizzazione la ricerca, la diffusione del patrimonio culturale specifico della loro tipologia anche se non sono magari appartenenti allo stessa area geografica faccio solo l'esempio a titolo puramente esemplificativo i musei archeologici i reti di musei scientifici per esempio oppure le reti territoriali reti territoriali cioè i musei e gli istituti della cultura che afferiscono allo stesso territorio appartenenti quindi ad aree storico culturali artistiche omogenee che si uniscono per promuovere il patrimonio culturale locale e si mettono insieme per creare degli itinerari condivisi per esempio oppure ci possono partecipare le reti di scopo cioè musei, istituzioni che per raggiungere obiettivi ben definiti e delle azioni che non necessariamente sono coerenti alla tipologia dei musei ma che individuano obiettivi specifici delle aree tematiche dei settori di interesse vi faccio l'esempio per quello dei musei toscani per l'Alzheimer quali sono le caratteristiche di queste reti per poter aderire al nostro bando intanto qui l'ho messo in ultimo nell'elenco ma una formalizzazione un accordo di rete quindi un accordo che definisca intanto qual è la rete di relazioni che mette insieme i vari soci, partner soggetti aderenti alla rete degli obiettivi comuni quindi un orizzonte una specie di manifesto delle idee condiviso l'idea della natura stabile quindi una durata che noi definiamo di almeno tre anni dalla data della sottoscrizione nel nostro caso per le reti nascenti almeno un anno successivo alla durata del nostro bando per quanto riguarda la formalizzazione la formalizzazione della rete può essere effettuata attraverso la costituzione di un soggetto giuridico per esempio un'associazione una fondazione ovviamente soggetti non a scopo di lucro e che rientrano nell'iscrizione al registro nazionale del terzo settore del RUNS oppure nel caso per esempio di soggetti pubblici un accordo o pubblici e privati insieme un accordo di rete anche leggero un protocollo d'intesa una convenzione oppure un partenariato tra pubblico e privato su questo tema è arrivato qualche quesito le reti possono essere formate non necessariamente da soggetti omogenei cioè non devono necessariamente essere tutti soggetti pubblici o tutti soggetti privati non a scopo di lucro possono esserci delle delle situazioni assolutamente miste ma la diciamo la la rete deve assolutamente avere dei requisiti di costituzione ma soprattutto individuare un capofila e oltre ovviamente ad avere sede legale e operativa in Emilia Romagna naturalmente stiamo pensando a reti museali dell'Emilia Romagna il capofila deve essere individuato all'interno della rete e rimarrà l'unico beneficiario l'unico destinatario dei contributi in caso di selezione a seguito della partecipazione al bando e diventa il destinatario unico del contributo e dell'unico interlocutore per la regione in fase di rendicontazione delle spese quindi è il capofila che si carica della diciamo della responsabilità legale amministrativa nei confronti della regione come tenutario come beneficiario appunto del contributo quali sono i requisiti della rete una rete per poter aderire al nostro bando deve contare un numero di soggetti aderenti alla rete non inferiore a 4 cioè reti dai 4 soggetti in su possono partecipare al di sotto dei 4 soggetti riteniamo che non si configuri così in maniera stabile e insomma adatta ai nostri requisiti l'idea della rete naturalmente la rete deve avere un accordo di rete o un atto costitutivo che peraltro deve essere presentato in fase di invio della domanda al presente bando la durata la durata minima deve essere di 3 anni dalla data della sottoscrizione dell'accordo di rete o dell'atto costitutivo e deve essere pari almeno di un anno dal termine del progetto presentato questa questa durata diciamo di 3 anni o per le reti nascenti insomma di almeno un anno dal termine del progetto presentato è stata scelta per una questione di sostenibilità cioè l'idea di questo bando è quello proprio di generare delle reti con una funzione appunto stabile con una con un'idea di costruzione di legami forti e con un'idea di programmazione a lungo termine vorremmo evitare che si formino delle coalizioni estemporanee solo ed esclusivamente per l'opportunità delle risorse che la regione mette a disposizione in questa occasione chiaramente il bando è un'opportunità e l'idea appunto della durata serve proprio per mettere alla prova anche la possibilità e la capacità dei soggetti di provare la rete e la sua tenuta nel tempo chi può partecipare possono partecipare per i soggetti pubblici che comunque i comuni le unioni di comuni le province e la città metropolitana di Bologna e possono partecipare alle reti museali anche altri soggetti pubblici stiamo pensando le USL oppure ai musei statali che operano ovviamente nell'ambito della cultura oppure che sono conservatori proprietari di patrimoni culturali ma non possono essere capofila dei contributi del nostro bando l'unione dei comuni peraltro l'unione dei comuni è da considerarsi non una rete museale ma può partecipare come soggetto aderente a una rete insieme ad altri associati ad altri partner di rete può comunque svolgere il soggetto di capofila della rete per quanto riguarda i soggetti privati abbiamo accennato prima che devono essere soggetti senza scopo di lucro con sede legale operativa in Emilia Romagna che perseguono degli scopi di natura culturale nel proprio atto costitutivo e devono essere iscritti al registro nazionale unico del terzo settore ad esempio le associazioni le organizzazioni culturali senza scopo di lucro altri enti del terzo settore fondazioni altre istituzioni culturali senza fine di lucro qui avete già la slide con le risorse sono state stanziate delle risorse per 300.000 euro complessivi sulle annualità 2024 2025 150.000 euro per ogni annualità che a seconda del contributo che qui vedete avranno una ripartizione del 50% sulle singole annualità i contributi possono prevedere degli importi minimi complessivi di 40.000 euro e massimi complessivi di 80.000 euro cosa significa che i soggetti che decidono di partecipare al bando possono presentare delle progettualità a riscontro di importi minimi di 40.000 massimo di 80.000 per le due annualità come dicevo prima ripartiti ugualmente al 50% per ogni annualità per lo stesso progetto quindi per il progetto di rete che sarà candidato al bando non è però prevedibile il cumulo con altri contributi regionali sempre sullo stesso medesimo progetto quindi qui c'è una si può candidare il progetto di rete soltanto al bando regionale di cui stiamo parlando e veniamo a che cosa quali sono i progetti che possono essere finanziati su questo su questo bando consapevoli che noi abbiamo costruito un percorso già dai tempi dell'avvio del sistema museale regionale ricordo i tavoli territoriali si parlava di reti distretti territoriali sui territori quindi abbiamo pensato che dai tavoli ad oggi reti possono già essere molto ben radicate sul territorio altre si stanno costituendo proprio a partire dal percorso di formazione che abbiamo avviato tra ottobre e novembre dello scorso anno quindi abbiamo destinato due linee di intervento diciamo una linea che va a finanziare dei progetti che prevedono l'avvio e il consolidamento della rete quindi possiamo immaginare delle attività di conoscitive di mappature di supporto coordinato di condivisione del manifesto delle idee dell'elaborazione di documenti di definizione della governance anche l'identità visiva della rete di comunicazione e promozione che vanno a avviare la rete o a consolidarla nelle sue premesse nei suoi atti costitutivi insomma la linea B l'attività della rete quindi un vero e proprio programma di attività che può includere servizi per implementazione o la condivisione di competenze quindi il coordinamento la conservazione la comunicazione la formazione del personale e la realizzazione di un progetto vero e proprio comunicazione la formazione gli studi e le ricerche l'attività per la sostenibilità ambientale per l'inclusione sociale nuove forme di fruizione accessibilità al patrimonio strumenti di valutazione e misurazione dei risultati delle attività di rete tutte queste tutti questi ambiti rientrano tra i progetti finanziabili a seconda del tipo di tipologia di rete che intendete candidare i progetti ammissibili possono andare a premiare i progetti di ambito A quindi avvio e consolidamento sedi scusate reti più B quindi attività vere e proprie della rete oppure può andare a finanziare progetti del solo ambito B cioè soltanto le attività della rete nel caso in cui la rete sia già consolidata già avviata non abbia bisogno della parte di avvio e consolidamento non sono però ammissibili progetti che rientrano nel solo ambito avvio e consolidamento cioè nell'ambito A il senso di questa scelta cioè noi vogliamo sperimentare mettere alla prova i nostri musei nella progettazione in rete ma come dire diamo le gambe alla rete per camminare ma deve camminare quindi insomma è necessario ovviamente che ci sia non solo un finanziamento dell'avvio della rete ma anche la sua realizzazione come progetti come attività ecco la cosa fondamentale è che i progetti devono essere avviati e realizzati tra primo gennaio 2024 e 31 dicembre 2025 quindi anche tutte le spese che potrebbero rientrare nell'ambito A di avvio e consolidamento della rete devono però essere datate non prima del primo gennaio 2024 e la sua realizzazione fino al 31 dicembre 2025 qui abbiamo raccolto in un elenco le spese ammissibili nel bando nella proposta progettuale ve le elenco rapidamente attività di costituzione e avvio formale della rete stiamo parlando di spese legali spese notarili spese fiscali spese amministrative per un massimo del 10% delle spese ammissibili complessive sul contributo finale attività di programmazione e realizzazione del progetto di rete compensi e rimborsi professionali così come la formazione di operatori e di personale le forniture di servizi e beni le attività di mappatura e catalogazione e digitalizzazione del patrimonio comunicazione e promozione organizzazione di laboratori incontri conveni seminari attività di coinvolgimento delle comunità patrimoniali elaborazione e pubblicazione di report e studi scientifici realizzazione di cataloghi realizzazione di portali e siti web spese di viaggio ospitalità per relatori ricercatori esecutori come alloggio e pasti eccetera spesi per diritti siae naturalmente tutte queste tipologie di cui abbiamo elencato diciamo le principali categorie devono essere necessariamente afferenti ed esclusivamente afferenti alle attività di rete quindi non sono contemplate le spese che magari fanno capo al museo capofilo o uno dei musei aderenti che però non rientrano necessariamente nelle attività di rete naturalmente tutte queste spese ammissibili devono fare capo al capofila della rete cioè tutto questo apparato di spese e di rendicontazione deve passare dal soggetto capofila della rete che ha oneri e onori di questo ruolo tanto che come riconoscimento degli oneri tra le spese ammissibili abbiamo riconosciuto al capofila nella misura non superiore al 10% delle spese ammissibili delle spese per il coordinamento della rete per esempio riconosciute attraverso il personale dipendente impiegato nella gestione e nel coordinamento del progetto e la qui magari dopo ne parleremo forse un po' meglio verrà riconosciuto il quantitativo sulla base della busta paga del dipendente per il quantitativo di ore quantificato come lavoro di coordinamento o di gestione di attività della rete per esempio l'amministrazione ecco arriviamo alla presentazione della domanda la scadenza dei termini di presentazione delle domande è il 14 giugno 2024 ore 16 mi raccomando cercate il più possibile di non aspettare le 15 e 50 per mandare la documentazione perché sapete che gli imprevisti possono sempre succedere però questa è la scadenza ogni capofila può presentare una sola domanda di concorso cioè non sono ammissibili se un capofila se un un ente è capofila di più di una rete non è accettabile due non sono accettabili due domande dello stesso capofila invece i singoli soggetti aderenti alla rete possono aderire a più di una rete partecipanti nello stesso tempo al bando spero che sia chiaro questo la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto capofila deve essere inviata via PEC con firma digitale all'indirizzo PEC del settore patrimonio culturale che è patrimonio culturale chiocciola posta cert punto regione punto emilia trattino romagna punto it ma trovate tutte le indicazioni nella parte del bando l'oggetto della PEC deve riportare obbligatoriamente la dicitura domanda di partecipazione all'avviso reti museali 2024 e segue il nome della vostra rete che cosa presentare nella domanda voi troverete un allegato all'avviso in cui vi sarà chiesto di compilare per filo per segno tutti i dati anagrafici del rappresentante legale del soggetto capofile individuato per la rete la scheda descrittiva del progetto che deve riportare gli obiettivi progettuali la descrizione delle attività previste dal progetto un cronoprogramma delle attività bisogna allegare obbligatoriamente il piano dei costi preventivati del progetto troverete poi sul nostro sito tutti gli allegati che potete anche consultare preventivamente per capire come sono costruiti un cronoprogramma e l'indicazione della eventuale partecipazione di altri soggetti che magari non sono strettamente aderenti alla rete ma che sono magari interessati anche se non appartenenti alla rete ad aderire come destinatari o come collaboratori a qualche titolo al vostro progetto obbligatorio allegare il documento costitutivo della rete sia che si tratti dell'atto costitutivo nel caso dei soggetti privati sia che sia il protocollo di intesa o la convenzione o il partenariato pubblico privato nel caso di capofila pubblici debitamente firmato dei rappresentanti legali dei soggetti partecipanti i criteri di valutazione cosa andremo a valutare allora qui un breve schema intanto vi anticipo che il punteggio minimo per l'ammessibilità al contributo regionale è quello di 60 punti su 100 totali e tornando ai criteri di valutazione naturalmente il peso maggiore con 55 punti viene dato a quello che è la proposta progettuale quindi verrà valutato la rilevanza del progetto una qualità complessiva l'attinenza territoriale diciamo l'attinenza dell'attività con quello che è l'atto costitutivo della rete la valenza territoriale la chiarezza della proposta e anche la completezza nella descrizione delle attività il modo in cui viene enucleato il cronoprogramma e insieme ai costi e anche la congruenza un po' tra quello che è il tipo di attività e i costi richiesti nel merito dell'accuratezza del quadro economico viene valutato anche l'accordo di rete quindi che sia un accordo già costituito o che voi stiate costituendo una rete dieci punti massimo saranno assegnati alla chiarezza e alla sostenibilità dell'accordo di rete in termini di durata in termini di come ogni ente entra nell'accordo di rete i rapporti e il valore e le competenze e la misura in cui ogni ente entra nell'accordo di rete e svolge un proprio ruolo all'interno dell'accordo il numero di musei e istituti culturali aderenti alla rete quindi all'accordo di rete è superiori a 4 abbiamo detto che la rete come requisito minimo deve possedere almeno 4 musei o istituzioni culturali ecco tutto quello che è numero superiore al numero 4 può avere un punteggio che verrà assegnato fino a un massimo di 8 punti anche avere partecipato al corso coltivare una rete organizzato da noi nel periodo di ottobre e novembre tanti siete stati i partecipanti al corso ha un riconoscimento in termini di punteggio perché in quel periodo i musei hanno già in un qualche modo sperimentato appreso il valore gli aspetti della rete della progettazione in rete e hanno già cominciato a sperimentarsi come gruppi e come proposte progettuali ecco un altro tema che ormai rientra nei nostri bandi in maniera sempre più coerente che è sempre più crescente sono i principi di sostenibilità ambientale sostenibilità sociale economica e di accessibilità quindi questi sono i criteri che come sapete noi puntiamo per accompagnare i musei nelle sfide per il futuro quindi quanto più il vostro progetto di rete contempla questi principi quanto più verrà riconosciuto anche in fase di valutazione di merito un altro criterio che viene riconosciuto è quello dell'attinenza agli ambiti e all'attività di comunicazione e promozione della rete ovvero quanto più la rete è in grado di dare valore nell'attività di rete anche al singolo piccolo o grande museo che sia anche in termini di visibilità di comunicazione di possibilità di condividere la comunicazione quanto più questo verrà riconosciuto in termini di valutazione fino a un massimo di sette come punteggio quindi conviene in fase progettuale prevedere anche un piano di comunicazione che preveda una valorizzazione della rete ma anche dei singoli sia in termini di progettazione sia in termini di comunicazione un altro spunto che collega questo bando al contesto del sistema museale regionale è il fatto che quanti più musei accreditati al sistema museale sono parte accreditati al sistema museale nazionale scusate aderiscono alla rete quanto più sono parte della rete quanto più viene riconosciuto in termini di punteggio finale la logica di questo di questo criterio è quello della crescita è uno stimolo a crescere sempre di più anche nell'acquisizione dei look e nel concludere il percorso verso l'accreditamento al sistema museale regionale abbiamo ribadito il minimo di 60 punti su 100 per valutare l'ammissibilità al contributo regionale verrà verrà poi istituita una commissione per la valutazione per l'ammissibilità formale delle domande e una commissione per la valutazione di merito dei progetti la procedura si concluderà in 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando e concludo ricordando che è sempre possibile l'assistenza alla compilazione della domanda mandando una mail al nostro indirizzo di casale di posta elettronica sistema museale regionale chiocciolaregione.emilia trattinoromagna .it riportando sempre una dicitura nell'oggetto richiesta di assistenza avviso reti museali 2024 e possibilmente il nome della rete qui i riferimenti dove scaricare il bando io mi fermo qui è stata una descrizione lunga spero Chiara adesso passo la parola a Chiara Casari e dopo tutte le domande saranno possibilmente lette vi ringrazio grazie Silvia ti chiedo la cortesia se puoi lasciare la slide sulle spese ammissibili per cortesia così l'abbiamo sotto buon pomeriggio a tutti innanzitutto anche io desidero ringraziare le colleghe e colleghi che hanno collaborato alla stesura e redazione di questo bando non vi nego che è stata un'avventura abbastanza impegnativa quella di arrivare a questa formulazione perché come già stato detto siamo nell'ambito di una legge ormai storica consolidata però è una sfida nuova un progetto innovativo qualcosa che non era ancora stato fatto quantomeno in questi termini e quindi ci ha impegnato parecchio di questo ringrazio soprattutto la collaborazione del collega Marco Muzzioli che oggi è qui con noi e che sarà una delle persone che sicuramente accompagnerà i soggetti che poi una volta partecipato al bando risulteranno selezionati e quindi sperimenteranno per i prossimi due anni la realizzazione di questi progetti proprio partendo da questo presupposto io vi porto un invito vi faccio un invito leggete attentamente questo avviso ma leggetelo con occhi nuovi è vero troverete forse delle diciture che avete già in un qualche modo visto troverete alcune cose che vi sono familiari però questo è un avviso del tutto nuovo ci sono tanti punti che segnano delle differenze rispetto al passato e delle nuove modalità di gestione per cui leggetelo dimenticandovi un po' lasciando un po' da parte se già siete come dire abituati a partecipare a avvisi sulla legge 18 o su altre leggi che siano in un qualche modo che in un qualche modo facciano riferimento al nostro settore perché in realtà ci sono tante novità quindi valetto con occhi che sappiano guardare le cose le cose realmente questo bando propone proprio per questo io adesso voglio in un qualche modo cercare di rispondere a quelli che sono stati i quesiti più gettonati che ci sono arrivati fra quelli che ci sono arrivati via mail e che riguardano forse gli ambiti appunto dove ci sono proprio dei punti di differenza molto significativi rispetto al passato il primo sicuramente è quello degli accordi di rete gli accordi di rete sono disciplinati al punto 2.2 del nostro avviso e questo punto 2.2 va letto in combinato disposto col punto 5.1 che è quello che ci racconta ci spiega come devono essere presentate le domande leggevo anche prima una un un quesito proprio su questa cosa dei protocolli d'intesa noi abbiamo lasciato la più ampia libertà a voi cioè a tutti i soggetti che vorranno presentare una domanda di costituirsi se non l'hanno già fatto se non sono già una rete museale costituita di costituirsi con lo strumento che ritengono migliore più utile più facile da realizzare anche dati i tempi che ovviamente il bando impone per ovvie ragioni quindi avete la massima libertà ovviamente di utilizzare uno strumento che sia in grado di rispondere alle vostre soggettività siete una rete di soli soggetti pubblici una rete di soli soggetti privati una rete mista potete utilizzare anche a seconda di che è ovviamente il soggetto capofila lo strumento che ritenete l'importante è che ci presentiate un documento che in un qualche modo nello spirito di quello che è l'avviso nello spirito di quella che è questa operazione già in nuce vada a descrivere quelli che saranno le caratteristiche della rete quindi se lo scopo finale è quello di sostenere delle reti che poi come diceva Silvia in un qualche modo diventino stabili diventino delle realtà che sanno anche costituirsi in un soggetto giuridico terzo magari a fine del percorso a realizzazione del percorso allora già anche ci aspettiamo che nell'accordo di rete siano descritte pennellate insomma tutte quelle che saranno le caratteristiche dei rapporti fra gli aderenti le responsabilità dell'uno dell'altro cosa si farà le modalità con le quali la rete poi opererà effettivamente e ovviamente questo accordo deve essere sottoscritto formalizzato per cui un protocollo di intesa potrebbe anche andare benissimo che è uno strumento molto leggero però deve essere formalizzato qualcuno in chat chiedeva se uno degli aderenti al protocollo di intesa decidesse di non partecipare al bando è allora questa questa casistica non c'era venuta in mente di certo quello che posso dirvi che poi non so se Silvia vuole aggiungere qualcosa è che siamo proprio a 15 giorni dalla scadenza del bando cioè mi aspetterei che quantomeno per la prima annualità tutti i soggetti che hanno aderito al protocollo di intesa e quindi alla rete partecipino attivamente alla rete poi se ci dovessero essere nel corso dello sviluppo delle questioni che possono sorgere qualcuno che vuole uscire o qualcuno che vuole entrare verrà valutato sicuramente tutti gli scostamenti rispetto a quello che è stato previsto in domanda devono essere comunicati tempestivamente alla regione sempre il bando lo disciplina a un punto di cui adesso non ricordo il numero comunque è disciplinato direttamente dal bando e per cui la risposta a molti numerosi quesiti che ci sono pervenuti è questa cioè le reti devono essere formalmente costituite e il documento che costituisce la rete deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aderenti questo è quello che ci aspettiamo di ricevere come documento essenziale fra quelli che è necessario presentare ovviamente come già prima è stato ampiamente descritto la rete deve prevedere un capofila il capofila sarà il soggetto che avrà i rapporti con la regione quindi proprio come avete visto nelle spese ammissibili qua siamo nell'ambito del punto 8 del punto 4.2 del bando al soggetto capofila per il soggetto capofila è stata prevista questa possibilità di presentare delle spese che riguardano il coordinamento della rete che possono anche essere rappresentate da spese di personale nella misura massima del 10% delle spese ammissibili ora come è ampiamente descritto nel bando poi tutte le spese dovranno essere sostenute nel periodo di elegibilità del bando quindi in realtà nelle due annualità dal 1 gennaio 24 al 31 dicembre 25 e dovranno essere ovviamente presentate tramite una serie di documenti che sono la relazione di rendicontazione ma anche tramite i giustificativi di spesa nel caso di queste spese che riguardano il personale sono ammissibili anche ovviamente le buste paga dei dipendenti che devono essere però attribuiti al progetto cioè devono essere stati indicati quali soggetti che lavorano per questo progetto e deve essere la loro partecipazione al progetto poi attestata tramite una serie di time sheet e un'altra serie di documenti l'altra diciamo novità rispetto a bandi precedenti sempre in ambito museale è quella della spese cosiddette per l'avvio formale della rete su questo mi voglio fermare un attimo perché nel elenco dei documenti da compilare in sede di presentazione della domanda troverete anche un documento che si chiama piano economico che è l'allegato C1 al bando e che vi abbiamo chiesto di presentarci anche in formato Excel ovviamente per una facilità anche nostra puoi andare a effettivamente verificare rispetto delle percentuali di spesa ma in questo allegato si chiarisce secondo me molto bene il rapporto che c'è tra questa voce di spesa quella per la costituzione e l'avvio formale della rete quindi stiamo parlando di spese legali notarili fiscali amministrative sempre nella misura massima del 10% delle spese ammissibili e le due tipologie di linee di attività che sono previste da bando che sono la linea A e la linea B se guardate attentamente quel file vedrete che il 10% riguarda non tutte le spese ricomprese nella linea A ma solo appunto le spese che riguardano l'avvio formale della rete e questo è importante perché ci sono nella linea A delle altre tipologie di spesa che sono invece quella che riguarda l'avvio delle attività vero e proprio che non fa parte di questo 10% è esclusa da questo 10% quindi è importante quando si crea il budget di questi progetti e poi soprattutto in sede di rendicontazione non mischiare le due tipologie di spesa per evitare di sforare queste percentuali che ovviamente saranno controllate e verificate al centesimo e dopodiché per quanto riguarda sempre questo punto 4.2 delle spese ammissibili e non ammissibili noi abbiamo cercato il più possibile anche di dettagliarle di pensare degli esempi di quali potevano essere le tipologie di spesa che sarebbero poi state presentate e utilizzate per la realizzazione di queste attività ovviamente è impossibile come dire andare a coprire tutti i casi possibili però anche per analogia potete trovare diversi esempi di quelle che sono le spese che è possibile che sarà possibile rendicontare ovviamente ribadiamo tutte queste spese devono essere effettuate dal capofile i giustificativi di spesa devono essere intestati al capofila che deve essere il soggetto che per la rete ovviamente per la rete non per se stesso per le proprie attività ma per le attività di tutti per esempio contrattualizza il personale esterno fa i contratti di forniture di beni e servizi eccetera eccetera non so paga il grafico per fare la grafica il il direttore della rete per esempio se deciderete di avere un direttore della rete e via discorrendo anche su questo ovviamente ci sono pervenute diverse domande puntuali risponderemo caso per caso ovviamente rispetto alle necessità che sono emerse ma è impossibile ovviamente andare a descriverle tutte in questa sede ecco passo anche a un altro punto che ci è stato chiesto da diversi soggetti che è quello del dei contributi e della rideterminazione dei contributi allora come è stato detto prima il contributo è previsto sulle due annualità 24-25 noi ci rendiamo perfettamente conto che il 2024 è in corso anche già abbastanza avanzato ci sono delle spese per esempio quelle di avvio della rete che ci aspettiamo di trovare nell'annualità 2024 perché ovviamente stanno all'inizio a monte di tutto il percorso è chiaro che da parte nostra le risorse sono suddivise adeguamente sulle due annualità e quindi il contributo sarà suddiviso sulle due annualità in maniera 50% sul 2024 e 50% sul 2025 la cosa però sicuramente anche questa nuova rispetto ad altri bandi del passato è che il contributo sarà al 100% questo significa che a un contributo per esempio massimo di 80.000 euro noi ci aspettiamo una rendicontazione di 80.000 euro ovviamente suddivisa nelle due annualità 40 e 40 cosa succede se si rendiconta di meno e qui andiamo al punto mi pare sia il punto della rendicontazione è il punto 8 8.4 lo chiarisce molto bene qualora l'importo rendicontato sia inferiore rispetto al contributo concesso sostanzialmente il contributo sarà pari all'importo rendicontato è chiaro che la regione pur in presenza di una possibilità di contribuire al 100% su un progetto non può erogare un contributo inferiore a quello che sono le spese rendicontate queste sono le cose secondo me principali gli aspetti punti principali per quanto riguarda diciamo la gestione più amministrativa di questo avviso non ho letto Barbara aiutami se ci sono altre domande sì ad esempio la questione dei bolli utilizzati nella realizzazione e costruzione del protocollo di intesa se possono essere spese ammissibili no i bolli non sono mai spese ammissibili e devono essere la normativa sull'imposta di bollo deve essere ottemperata a seconda di quella che è la natura giuridica del soggetto proponente in questo caso sarà il soggetto capofila quindi ciascuno ciascun soggetto capofila giocherà in tutto e per tutto con le proprie regole del gioco e quindi anche per quanto riguarda i bolli che però non possono mai essere un costo per la regione sono sempre a carico del beneficiario dimmi pure questa domanda spese relative a compense e rimborse professionali quello è un tema che andrà approfondito forse con delle facche perché allora le spese anche di persone tutte le spese devono essere relative al soggetto capofila quindi il soggetto capofila non sarà possibile rimborsare spese di personale di altri partecipanti alla rete che non siano il soggetto capofila solamente nel caso sempre riportato nel punto delle spese ammissibili 4.2 in cui ci siano delle spese per la partecipazione a spese di rimborso viaggio sostanzialmente in quel caso abbiamo previsto che ovviamente passando per il soggetto capofila possa esserci un rimborso anche di personale per esempio volontario che dovesse partecipare a degli eventi eccetera e avevo letto anche una domanda scusa Chiara a proposito perché appunto il tema come diceva Barbara e questo è dedicato quello che è posto dalla domanda di Chiara San Felici per spese relativi a compensi e rimborsi professionali si intendono solo spese di collaboratori esterni o possono essere previste anche spese personali dipendenti da uno più partecipante alle rete e tu hai dato la risposta che condividiamo il caso si pone immagino nel momento in cui un'attività con una competenza specifica presente all'interno dei soggetti della rete si pone come una competenza di formazione per tutti gli operatori della rete ok potrebbe essere in capo a una figura professionale che dipende da uno dei soggetti non dal capofila allora io come ho già avuto modo di approfondire di riflettere insieme a chi me l'ha chiesto ritengo che se si vuole acquisire una una prestazione riguardo a quella specifica competenza di un soggetto che è comunque di un professionista che è comunque un dipendente di un soggetto allora in quel momento lo si prende per quella competenza specifica sul progetto di rete allora questa persona non dovrà essere in servizio verso il proprio ente ok ma quindi fuori dall'orario di servizio con una notula parte diventa un collaboratore esterno funzionale alla realizzazione di un'azione della rete in questo caso è fuori dall'orario di servizio è un incarico extra che l'ente gli autorizza ok quindi se rientra in questa casistica diventa un collaboratore esterno altrimenti rischiamo appunto di retribuire due volte le ore lavorate dal soggetto che è già incardinato dentro uno degli enti o dei soggetti che fanno parte della rete ecco questa è un po' la razza che vorremmo seguire siamo assolutamente consapevoli che per alcune alcuni progetti di rete ci potrebbero essere già delle competenze all'interno dei soggetti che stanno intrecciando dei rapporti collaborativi stabili bene allora se si tratta di mettere a frutto di tutta la rete una competenza specifica noi abbiamo la possibilità in questo bando di riconoscere con questi paletti come si diceva è il primo bando che facciamo in questo senso ovviamente siamo tutti in un percorso di presa d'atto di quelle che sono le esigenze che si verificheranno spero di aver risposto sì segnalo solamente un altro quesito che è arrivato proprio prima che cominciasse la riunione e secondo me è un po' è già stato risposto e riguarda le caratteristiche della formalizzazione della rete per un comune che va alle elezioni l'8 giugno dice l'idea poteva essere quella di andare in giunta con un protocollo di intesa fra enti e associazioni coinvolte e direi di sì la possibilità chiede la possibilità da parte di un'associazione di fare il capofila in una rete mista con altre associazioni ma soprattutto con i comuni anche in questo caso come ho già detto può essere un ente pubblico o un ente privato senza scopo di lucro non può essere ovviamente una persona fisica ma un soggetto giuridico non avente scopo di lucro assolutamente ovviamente il capofila come dicevo prima gioca con le proprie regole del gioco quindi anche dal punto di vista contabile fiscale si applicheranno le regole del capofila cioè noi siamo obbligati se è un soggetto pubblico la rete si porterà dietro le regole del soggetto pubblico viceversa se è un soggetto privato Un altro quesito dell'ultimo minuto chiedo se ho compreso correttamente in caso di contributo ottenuto di 80 mila euro non è possibile quindi rendi contare spese di attività pari a 20 mila nel 20-24 e 60 mila nel 20-25 Allora il contributo sarà equamente suddiviso sulle due annualità quindi caso massimo 80 mila euro 40 e 40 per cui chiaramente ci aspettiamo una rendicontazione pari al contributo o almeno al contributo in ciascuna delle due annualità è chiaro che l'annualità 24 abbiamo già detto è in corso però queste sono le regole insomma alle quali dobbiamo attenerci perché sono le regole contabili della regione io volevo aggiungere solo una cosa adesso non so se ci sono altre domande invito anche fra gli allegati al bando a un certo punto c'è una tabella riassuntiva della documentazione a corredo della domanda di contributo che è uno specchietto che abbiamo creato e che vi invito a leggere e soprattutto a spuntare nel momento in cui presenterete la domanda perché è come dire un registro che può aiutare a non dimenticarsi dei documenti o a non dimenticarsi come vanno sottoscritti i documenti le parti di documento qualcuno prima chiedeva si può firmare in maniera analogica il protocollo d'intesa sì il protocollo d'intesa lo potete firmare come volete ma la domanda di contributo deve essere invece firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo delegato che deve essere però formalmente delegato quindi dovrà essere allegata anche la delega a presentare questa domanda direi che tutte le domande che sono pervenute anche in chat hanno avuto una risposta o direttamente da Barbara in risposta in chat oppure anche durante il webinar confermiamo mi pare appunto il fatto che renderemo disponibili delle fac così rimane scritto per tutti e il webinar è registrato quindi messo a disposizione se non ci sono altre domande stiamo abbastanza in linea con il tempo che avevamo prenotato per i vostri pomeriggi visto che abbiamo iniziato non proprio le 15 ma le 15 e 05 stiamo sporando di 4-5 minuti bene io credo che sia il caso di metterci tutti a lavorare e di portare a compimento quelle progettualità che noi sappiamo per molti di voi sono diciamo sul tavolo di lavoro da alcuni mesi è uno sforzo grande che vi chiediamo ne siamo consapevoli ovviamente tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per comprendere per capire venire in conto lo faremo ma atteniamoci a quanto appunto scritto nell'avviso proprio perché torno a dire quello che avevamo anticipato all'inizio la volontà è quella davvero di dar vita a delle esperienze di rete che possano essere una palestra effettiva di rapporti di colleganza più stabili con un dosaggio che non decide la regione per voi ma così come si è voluto fortemente attraverso anche il percorso di formazione deve poi maturare proprio nel cuore delle istituzioni che essendosi messe in discussione vanno a discernere quali sono gli ambiti per cui vale la pena davvero puntare a una logica di rete e a consolidarla ecco questa esperienza vuole proprio essere questo con il budget che siamo riusciti ad avere vuole avere questa funzione e chiaramente avremo molto piacere e lo cercheremo il contatto il confronto con chi poi vivrà questa esperienza di rete grazie a questi contributi o comunque grazie a altre esperienze che messe in atto dalla regione da altri settori o anche con sussidi di altra natura avrà modo di confrontarsi con quanto si è riusciti a fare quali sono le criticità quando davvero tra virgolette conviene fare rete è utile efficace in che direzione per che cosa e quando invece forse vale la pena continuare a pensare soltanto al proprio ambito specifico niente io spero che tutti i colleghi siano stati potenti sì è una domanda che non avevo visto perché non era nella chat era in un'altra chat quindi se possiamo all'ultimo minuto oppure possiamo rispondere via mail dite voi comunque il quesito uno stesso ETS può essere allo stesso tempo oggetto oggetto della rete e fornitore di servizi per la rete soggetto della rete fornitore di servizi per la rete fattura e fatturare a capofila cioè soggetto capofila che fattura no direi di no no perché non sono previsti passaggi di danaro fra i soggetti che fanno parte della rete quindi insomma o è un produttore di servizi o è un soggetto che fa parte della rete sì mi scuso perché mi era sfuggita no perché era nella sezione domande risposte giustamente dove avrebbero dovuto essere tutti va bene un saluto a tutti allora grazie buon lavoro e appunto mettiamocela tutta insieme grazie buon pomeriggio grazie buongiorno a tutti arrivederci grazie a tutti Grazie.